Dan, noi siamo pronti, scena per favore. Aspetta un secondo. Amici sportivi e non sportivi, il vostro coach è tornato e vi lancia una sfida. Imitate il mio mmmm, potete vincere un'esperienza fenomenale. Sarò io in persona a scegliere il migliore di voi. Come on, fatemi vedere che siete il numero uno.